Voglio rivolgere un caloroso saluto a tutti i miei colleghi editori, i quali ancora non hanno avuto il coraggio di abbandonare la logica delle fiere ed ora in questi giorni si trovano a Torino nei loro stand che si guardano continuamente intorno, speranzosi che qualcuno si fermi ed acquisti i loro libri, sì certamente alcune copie dei loro libri saranno state acquistate, le venderanno, ma alla resa dei conti sarà valsa la pena fare questo tour de force da un punto di vista proporzionale sarà valsa la pena, forse le fiere magari serviranno a quegli editori i quali non hanno alcuna distribuzione nelle librerie, ma per tutti gli altri sarà valsa veramente la pena partecipare a fiere così come sono concepite? Grazie a tutti i nostri spettatori